Mikado Film presenta... Tesoro, non prendere la scorciatoia, finiamo sempre per perderci. Dal maestro del film di animazione, Ayao Miyazaki. Che cos'è? Entriamo. Voglio vedere che c'è dall'altra parte. Dove è stata là? Ehi! Non era solo una chiadina! Torniamo indietro. Non dovresti stare qui. Presto, vattene. Che? Va via prima che faccia buio. Devi attraversare il ponte. Vai, penso io a distrarli! Mamma! È un sogno! È un sogno! Avanti, svegliati! Svegliati! Non avere paura. Sono il maestro a cuore. No! Voglio soltanto aiutarti. No! Sono trasparente! Nei mondi visibili e invisibili, dove si trasformano gli spiriti. e regnano le maghe. La maga Yubaba ti controlla rubandoti il nome. E se te lo dimentichi, non potrai più tornare a casa. Il tuo nome adesso mi appartiene. Il futuro di una bambina dipende dal suo giudizio. Non ti stai bagnando lì fuori. Ti lascio la porta aperta. Dal suo coraggio. Aku! Si è fatto male! Aku, da questa parte! Dalla sua lealtà. Aku mi ha sempre aiutata. Adesso lo aiuterò io. Avanti, ragazzi. Le mie scarpe e i miei vestiti. E dal ricordare, la cosa più importante. Voglio che tu lo sappia. Il mio vero nome è Ciro. Mikado Film presenta La Città Incantata. Lasciatevi trasportare dalla magia del film, applaudito in tutto il mondo. Fermo! Andiamo! Aku! A Pasqua, preparatevi ad entrare nella Città Incantata. A Pasqua, preparatevi ad entrare il tuo nome, adesso mi appartiene. Senuto Chihiro no Kami Kakushi. Oastero, via! Angelo, via Oto-san! Il tuo nome adesso mi appartiene Dal maestro del film di animazione a Yao Miyazaki È un sogno, è un sogno! La maga Yubaba ti controlla rubandoti il nome E se te lo dimentichi non potrai più tornare a casa Il futuro di una bambina Haku da questa parte Dipende dal suo giudizio Haku mi ha sempre aiutata Dal suo coraggio Fermo, andiamo! Dalla sua lealtà Adesso lo aiuterò io Preparatevi ad entrare Nella città incantata